Bella a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovo video qui Silvestrolandia Oggi Regà non sono in compagnia del grinta E Mi dispiace sta cosa Cioè più che altro lo so passati 20 anni Cioè non mi ricordo manco più Chi è? Oh bella rica Bella secco Ciao raga Ma raga ma aspettavo Cioè è arrivato così proprio Dei cattiveria Vabbè Ragazzuoli Siamo qui per dirvi Un paio di cose E so passati 2-3 mesi Fare un video 2-3 anni Dove te aspetta che posso dire qua No da te mettere più dietro Ok manco sappiamo più Se vedremo Dai Ok So passati talmente Passo talmente tanto tempo Che non mi ricordo manco più Come si faceva l'intro Come si faceva l'intro? Infatti un po' di questo mi dispiace Vabbè non la facciamo l'intro Ormai il video è iniziato Questa è una sorta di Video blog È un video per il ritorno Per il nostro ritorno Sì perché comunque tra un po' torneremo Quindi non demordete Cioè magari c'è chi ci segue Quindi tra un po' ritorneremo E ritorneremo più forti di prima E la prima cosa che faremo Ragazzi sarà una cosa Il primo video Sarà una cosa molto molto particolare Particolarissima Se riusciremo a farlo Non vi pentirete di seguire questo canale Non vi pentirete più Non vi pentirete Quindi ragazzuoli Siamo arrivati a 100 Cioè quasi 110 iscritti Vabbè questo mi fa piacere Anche perché eramo rimasti Per tre mesi inattivi Quindi non stavamo facendo Proprio niente Siamo un po' arenati E quindi vabbè Spero di ricominciare Sia con questo primo progetto Che vogliamo portare a termine E poi finire Insomma ricominciare a giocare Perché io sto giocando Però C'è stato un problema Quindi raga Tutto a posto Non è morto nessuno No mi sei scaricato Cioè scherzo epico finito male Questo sarà chiamato Pickbait Vabbè mi sei scaricato Pickbait Quindi vabbè ragazzi Allora Volevo anche dirvi poi Che comunque la location Sta per cambiare Fra un mese Quindi anche questo È stato un motivo Per il quale Non mi sono messo a fare video La location sta per cambiare Fra un mese Non mi vedete più qui Ma da un'altra parte Voi lo vedrete Se ci vedrete Se ci vedrete Se Quindi ragazzi Noi vi aspettiamo Cioè aspettiamo Le vostre risposte Con il prossimo video Un video Molto molto particolare Lo ripeto Cioè io tendo ad alzare l'hype Perché Deve essere una cosa proprio Che vuoi andare a dedire Sì sì Ragazzi Cioè è una cosa proprio inaspettata Non vi aspettereste mai Una cosa del genere Mai 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 Quindi noi continueremo a fare gaming Però questa cosa sarà molto particolare Signori Io Vi saluto E anche il grinta Va beh insomma Vabbè ragazzi Io vi saluto Vi saluto a lasciare Un bel like Un commento A iscrivervi al nostro canale Sì verso l'anni vi saluta E anche il grinta Adesso Ci vediamo alla prossima Che cazzo Bella Bella